Ovviamente di questi fatti, poi dopo ne ripariamo all'ufficio di presidenza, oggi dobbiamo votare. Rimuovete chi ostacola fisicamente. Non riesco a sentirli. Dovete garantire l'ingresso alla corsia del voto. Magili assente. Maran. Maran sì. Marcucci. Colleghi, così non funziona. O consentite l'ingresso... Siccome il giochino è chiaro, sosteniamo la seduta e non facciamo il voto di fiducia, credo che non sia consentito e tollerabile una cosa del genere. Senatore Sant'Angelo, le mani, ciascuno si guarda le proprie, è inutile guardare le altre. I questori devono consentire con i collaboratori l'ingresso alla corsia del voto. I questori sono tre. Dov'è il terzo? Marcucci. 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 Marcucci assente. magriotta! Margiotta! Fate passare il senatore Margiotta! Margiotta lascia stare! Margiotta lascia stare! Volete far alzare quelli che sono seduti per terra all'ingresso? Benissimo, iniziamo a usare anche la corsia del governo. Margiotta, Margiotta. Margiotta, lascia stare Margiotta, lascia stare Margiotta, lascia stare Margiotta, lascia la perdere. Margiotta, lascia stare Margiotta, lascia stare Margiotta. Possa subire un condizionamento fisico prima dell'espressione del voto di fiducia. Dieci minuti riprende alle ore 20 e 30. Dopodiché chi intende assumere un atteggiamento antidemocratico ne subirà le conseguenze. E vi garantisco che chi l'ha fatto fino adesso sarà ricordato nel prossimo Consiglio di Presidenza.